Il tema di quest'anno, quindi la sostenibilità degli investimenti, lo abbiamo recepito a mio avviso in un modo abbastanza peculiare, nel senso che durante la nostra conferenza affronteremo come uno dei nostri team di investimento più brillanti, più di successo, ha interpretato proprio il tema degli investimenti sostenibili e lo hanno fatto in un modo proprietario, in un modo assolutamente unico secondo me sul mercato. Andando a implementare quella che è una selezione dei titoli, non tanto badando al rating dato da società terze, ma andando a creare in maniera proprietaria un rating sull'attenzione ai parametri ESG delle singole aziende che incontrano. Il nostro gestore dice, io non andrò mai a delegare la stock selection, quindi la selezione dei titoli in cui investo a un terzo, che mi dà un punteggio sull'attenzione ai parametri ESG. Il mio lavoro è la stock selection e quindi sono io a dover valutare quale attenzione le aziende mettono nei confronti dei parametri ambientali, sociali e di buon governo. Quindi secondo noi è un modo sicuramente differente di intendere questo e crediamo che sia un modo assolutamente valido per creare poi anche valore per l'azionista, per l'investitore. Il Salone del Risparmio dal nostro punto di vista è cresciuto in questi dieci anni. Noi ci abbiamo creduto tanto sin dall'inizio, dalla prima edizione, l'abbiamo visto crescere, l'abbiamo visto evolvere e siamo molto contenti del risultato ottenuto. Ad oggi è il più grande evento legato al risparmio. La cosa interessante secondo me è che ha coinvolto nel corso degli anni tutta la catena di produzione per cui inizialmente era un evento in cui noi fabbriche prodotto incontravamo prevalentemente i distributori intesi come private banker e financial advisor, ma passeggiando nel Salone si incontrano gestori, CEO e CIO delle principali aziende, banche e reti di distribuzione italiane. Quindi davvero ha coinvolto tutta la catena del valore della produzione, dell'asset management e del well management in Italia. Questo sicuramente è il successo del Salone del Risparmio. Il nostro focus per quest'anno è ribadire quello che sappiamo far bene. Noi siamo convinti che l'asset management probabilmente nel tempo ha creato una serie di strategie di gamme di prodotto troppo ampie, ma poi alla fine i distributori ci scelgono per quello che sappiamo fare bene, per quello che sappiamo fare meglio degli altri. Il nostro lavoro sarà sempre quello, cioè quello di sottolineare quello che noi sappiamo fare bene, quelle poche cose che sappiamo fare che possono creare valore per gli azionisti. Quindi focalizzazione sulle nostre strategie globali azionarie, strategie di alta qualità, ricerca delle aziende in modo davvero molto molto attento per quanto riguarda la selezione dei titoli. E' questo che sappiamo fare bene, questo il mercato ci riconosce e questo è quello di cui continuiamo a parlare. Secondo me sicuramente le sfide che tutta la filiera del risparmio, quindi non solo le fabbriche prodotto, ma anche la distribuzione dovrà affrontare di qui ai prossimi anni, è quello davvero di tenere sempre il cliente al centro di tutti i processi, non solo in termini di riduzione dei costi, quello è già avviato, ma anche in termini di copertura dei bisogni. Quindi davvero dobbiamo cercare di andare a coprire quelli che sono gli effettivi bisogni del risparmiatore. E questo secondo me, come dicevo prima, va anche molto per quanto riguarda noi come società di asset management nella focalizzazione della nostra offerta. Cioè non è vero che le società di asset management debbano essere brave a fare tutto. Dobbiamo tornare alle specializzazioni, tanto la distribuzione ci continuerà a scegliere per quello che noi sappiamo fare bene. Quindi la focalizzazione e la specializzazione nell'asset management secondo me sarà la risposta alle sfide del futuro.